Ok, allora, datemi giusto un feedback che riusciate a vedere realmente il mio schermo, feedback al solito audio. Si vede, professore. Perfetto, ok, grazie. Allora, dicevamo, l'argomento di oggi, in realtà anche della lezione di domani, è la conversione analogico-digitale. Perché, diciamo, in qualche modo impieghiamo due ore del corso in pratica per parlare di questa conversione analogico-digitale? Perché di fatto ha un ruolo fondamentale, non solo nei moderni strumenti di misura, nella maggior parte degli strumenti di misura moderni, appunto, ma anche in applicazioni un po' più ampie. Come avremo modo di accennare fra poco. Giusto per cominciare a vedere alcuni esempi che abbiamo già assaggiato durante il corso, in cui abbiamo magari accennato alla presenza di una funzione di conversione logico-digitale, ovvero di un convertitore che effettua questa tipologia di conversione, vi ripresento, ad esempio, lo schema blocchi del multimetro digitale, che avete studiato qualche lezione fa, dove ovviamente vi ricordate che avete tutta una parte, come dire, iniziale di condizionamento, che serve in qualche modo a definire anche le grandezze da dover misurare e quant'altro, ma poi indipendentemente da tutto, quindi dalle scelte di misura di tensione, corrente, resistenza o quello che è, poi vedete che in effetti lo strumento prevede la presenza di un convertitore logico-digitale, che appunto consente di digitalizzare, poi vedremo fra un po' cosa significa, un po' più nel dettaglio questa parola, l'informazione inizialmente in ingresso analogica, e di renderla quindi disponibile in generale su un bus di comunicazione a quel punto digitale, su cui poi un microprocessore può accedere a queste informazioni, può memorizzarle in un blocco di memoria, può visualizzarlo, oppure queste informazioni, ad esempio, possono essere anche rese disponibili su delle opportune interfacce di comunicazione, come abbiamo accennato già, e che per esempio vedrete bene nel corso che farete con me, al secondo livello, sui sistemi di misura distribuiti. Altro esempio in cui abbiamo cominciato a trovare il blocco di digitalizzazione, lo schema blocchi di una catena di misura per il rilevo di dati provenienti da sensori, se vi ricordate questa immagine, questo schema l'abbiamo visto quando avete studiato le caratteristiche metrologiche della strumentazione, e con quelle caratteristiche avete anche studiato in pratica l'architettura generale di un sistema di misura che può essere anche basato sull'impiego di sensori, e come abbiamo già accennato in quel frangente, a valle del sensore tipicamente c'è un blocco di condizionamento che ha in realtà un duplice scopo in generale, quello di fare in modo che la grandezza elettrica prodotta dal sensore, e che generalmente è proporzionale ad una variazione di una grandezza fisica in ingresso, venga tradotta in una grandezza elettrica, in particolare in tensione, quindi qualunque sia la grandezza elettrica in ingresso al blocco di condizionamento, poi l'uscita sarà una grandezza elettrica in tensione, ma poi questo blocco di condizionamento ha anche tipicamente l'obiettivo di far sì che questa grandezza elettrica di tensione in uscita sia adeguata, nel senso che possa essere correttamente trattata dal blocco di digitalizzazione successivo, e quindi spesso all'interno di questo blocco di condizionamento trovate anche qualche ulteriore, oltre a dei circuiti che possono essere tipo per esempio il ponte di Whiston, trovate in alcuni casi anche degli attenuatori, piuttosto che degli amplificatori, che hanno lo scopo di far funzionare poi questo blocco successivo, che è il digitalizzatore, ovvero il convertitore analogico digitale, nelle migliori condizioni possibili. Dopodiché, ancora una volta, vedete, una volta il segnale è stato digitalizzato, poi è disponibile in generale su un bus interno, che ne consente poi la memorizzazione attraverso un sistema di elaborazione, quindi ancora una volta un microprocessore, un microcontrollore, quello che volete poter elaborare questa sequenza di dati, per presentare i risultati, per esempio, su un display locale, piuttosto che per trasmetterli ancora una volta a distanza, attraverso un opportuno sistema di comunicazione. Vi faccio notare pure una notazione che vale per distinguere, come dire, i rami di circuiti analogici, i blocchi analogici da quelli digitali. Fateci caso, non è una casualità appunto, il fatto di vedere che i percorsi dei segnali analogici sono tipicamente rappresentati da delle frecce abbastanza sottili, mentre quando il segnale poi viene digitalizzato, e quindi da quel momento in poi diventa, come vedremo fra un po', una stringa di bit, in pratica il modo comune per schematizzare il flusso di dati non è più quello di una freccia sottile, come nel caso appunto dei segnali a monte del digitalizzatore, ma è quello di utilizzare una freccia un po' più spessa, per indicare appunto che qui sopra viaggiano praticamente stringhe di bit. Detto questo, perché poi si cerca di andare verso un mondo digitale in generale? Magari sono aspetti che avete anche affrontato in qualche altro corso, però li richiamiamo rapidamente anche perché ripetere certi concetti secondo me non fa mai male, anche quando sono raccontati appunto da docenti diversi. e in effetti qual è il motivo principale per cui andare in un mondo digitale? Che il mondo digitale offre una serie di vantaggi rispetto al mondo analogico. Ci sono ancora delle applicazioni che richiedono ancora il mondo analogico, e quindi sulle quali non è possibile applicare ancora per ora la tecnologia digitale in generale, però nella maggior parte dei casi la digitalizzazione offre una serie di vantaggi. Sicuramente per esempio nel mondo delle telecomunicazioni, delle comunicazioni, delle reti in generale, perché i segnali digitali possono essere inviati su distanze maggiori rispetto agli analogici, senza perdita di dati. Quindi ecco perché magari un segnale analogico che deve essere trasmesso, indipendentemente dal fatto che possa essere un segnale di misura, quindi proveniente da qualche applicazione di misura, deve subire una digitalizzazione prima poi per esempio di andare su un sistema di comunicazione. Anche un'altra applicazione che vi può iniziare a essere nota, può essere quella per esempio del filtraggio dei segnali, cioè quante volte nei precedenti corsi o anche forse già in misure avete sentito parlare di necessità di filtrare un segnale. Che significa filtrare un segnale? Filtrare un segnale significa cercare di alterarne le caratteristiche da un punto di vista soprattutto di componenti in frequenza indesiderate, quindi come può essere per esempio il rumore, piuttosto che segnale che non deve essere in quel momento, componenti di frequenza che non devono essere in quel momento, non sono utili all'applicazione specifica. E tutto questo come lo si garantisce? Attraverso l'impiego di cosiddetti filtri. Quali sono i filtri? Quelli che abbiamo chiamato filtri passa a basso, passa a banda, passa a alto, a seconda poi della loro risposta in frequenza, e quindi della loro forma, diciamo, di risposta in frequenza. E anche lì, come si realizzano poi? Cioè come si va al di là di quel blocco LPF, BPF o HPF? Dentro c'avete una prima possibilità, che è quella di utilizzare dei circuiti elettronici, quindi basati in alcuni casi su circuiti passivi, molto banali, come per esempio dei filtri RC, RL, VLC e così via, oppure a filtri attivi come per esempio quelli che si basano sull'impiego di amplificatori operazionali, ovviamente opportunamente retroazionati, opportunamente configurati, anche da un punto di vista di componentistica. E ovviamente quello è un modo di filtrare il segnale di tipo analogico, perché non c'è da nessuna parte una digitalizzazione del dato, e il filtraggio avviene grazie sostanzialmente alle caratteristiche circuitali di quegli elementi che state utilizzando. Tuttavia, diciamo, qual è il problema del filtraggio analogico in generale? Il problema del filtraggio analogico in generale è il fatto che appunto ci si affida al fatto che, per esempio, la risposta in frequenza che deve assicurare un certo filtro per fare da filtro passa basso piuttosto che passa alto piuttosto che passa a banda, ovviamente ottenuta grazie all'impiego di componenti, abbiamo detto prima, R, C, piuttosto che operazionali e così via, ma che di fatto sono elementi che sono sempre non ideali in generale, no? E quindi che cosa significa? Innanzitutto hanno delle proprie tolleranze, e quindi quando io, per esempio, inizio ad utilizzare un resistore, faccio un esempio da un kilohm, ormai devo capire che non è un kilohm, ma è un kilohm più o meno una certa fascia di tolleranza che dipende dalle caratteristiche di pregio del resistore, così come anche per, non so, i condensatori, per gli operazionali e così via, per cui già questo mi porta, come dire, uno shift o una variazione, diciamo, della risposta in frequenza rispetto a quello che mi aspettavo, a causa della non idealità dei componenti. Ma poi ci sono altri due aspetti ancora più gravi, se volete, nel caso del filtrage analogico, che possono creare qualche problema, e che sono, da un lato, il fatto che questi componenti, R, C, in generale non sono stabili nel tempo, subiscono anche delle variazioni legate anche alle condizioni ambientali, e quindi che significa? Che voi avete dei componenti che, diciamo, variano nel tempo con le condizioni ambientali, che ovviamente andranno a far variare a loro volta la risposta in frequenza del filtro che stavate realizzando. In più, se devo, diciamo, andare a modificare per qualche motivo le frequenze di taglio del mio filtro, perché la mia applicazione richiede una modifica della risposta in frequenza del filtro stesso, quello che dovreste fare con un filtraccio analogico è ovviamente andare a modificare i componenti e quindi sostituirli eventualmente per garantirvi le frequenze di taglio, le caratteristiche di attenuazione o di ripple, eccetera, eccetera, richieste praticamente alla specifica applicazione. Questi sono tutti gli aspetti di peculiarità rispetto, per esempio, ad un filtraggio analogico di un segnale. Cosa significa invece un filtraggio digitale? Il filtraggio digitale è un filtraggio che si verifica a valle di questa operazione di digitalizzazione e quindi fondamentalmente quando i dati sono diventati ormai stringhe di bit. Ebbene, una volta che i dati sono diventati stringhe di bit, io posso implementare dei filtri attraverso semplicemente, quindi dei filtri digitali, attraverso semplicemente dei software, degli algoritmi e quindi che rispetto ad un mondo analogico hanno una serie di vantaggi significativi. Non ci sono più componenti. I componenti si traducono, cioè, ottenere una risposta in frequenza che abbia certe caratteristiche per un filtro si traduce sostanzialmente nel progettare un filtro digitale che significa un algoritmo con certi coefficienti. Quindi, non so se avete mai sentito parlare già di filtri FIR oppure IR, e quindi non sono altro che degli algoritmi che lavorano con dei pesi, quindi con dei coefficienti che vanno a pesare appunto il segnale in ingresso nel caso dei FIR, e nel caso dei IR anche c'è una retorazione sul segnale di uscita, che fondamentalmente vi forniscono l'uscita filtrata partendo dalla sequenza di campioni in ingresso. E quindi, che cosa significa? Significa che tutte le problematiche che io ho nel caso dei filtri analogici, cioè l'instabilità dei componenti, non si verifica perché i coefficienti, una volta che sono stati definiti, sono quelli e sono quelli, cioè l'algoritmo filtrerà sempre nello stesso modo, non c'è deterioramento dell'algoritmo. Quindi le prestazioni diventano più stabili e predecili. Ma poi c'è un vantaggio enorme legato al fatto che se appunto io devo, per esempio, andare a modificare le frequenze di taglio, la risposta in frequenza del mio filtro, mentre nel caso del filtraggio analogico devo andare a modificare i componenti, devo andare a sostituire i componenti, nel caso invece del filtraggio digitale, in pratica si tratta di andare a ridefinire quei coefficienti di cui parlavamo prima all'interno dell'algoritmo, quindi fondamentalmente ridefinire delle costanti. E quindi capite bene la versatilità che anche nell'ambito delle applicazioni di filtraggio digitale, che sono notevoli nel mondo informatico e delle telecomunicazioni, come la digitalizzazione sia una cosa assolutamente fondamentale. In più, anche per le interoperabilità, scusatemi, tra per esempio standard di comunicazione, standard di compressione e così via, lavorare su sistemi digitali, poiché si tratta di algoritmi, è molto più semplice, così come le copie di segnali digitali hanno la stessa qualità della versione originale, a differenza di quello che accade invece sui sistemi analogici, e ripeto, nel mondo digitale, una volta che il segnale è diventato di fatto un vettore di punti, un array di punti, se vogliamo fare un'analogia con i corsi di informatica che avete, diciamo, studiato, poi di fatto su quel vettore di punti posso escogitare, ipotizzare qualsiasi tipologia di algoritmo, quindi di elaborazione, da poter fare per estrarre delle informazioni di interesse. Ovviamente nel caso specifico degli strumenti di misura, estrazione di informazioni di misura in generale. Ma a questo punto, diciamo, che differenza c'è, richiamiamo rapidamente, tra segnali analogici e digitali? Allora, come dicevo prima, partendo dal mondo analogico, i sistemi digitali di elaborazione, come possono essere i microcontrollori, i microprocessori, piuttosto che i digital signal processor e così via, hanno necessità che i segnali in ingresso vengano convertiti in forma digitale o anche numerica, diciamo, è un acronimo, cioè scusatemi, è un sinonimo di digitale. Quindi quando parliamo di strumenti numerici o strumenti digitali, stiamo dicendo la stessa cosa. Allora, ovviamente, il problema, diciamo, che si pone è quello di fare in modo da cercare di trasformare un segnale analogico, che ovviamente porterà con sé una serie di informazioni, in un flusso numerico di dati senza perdita di informazione, o perlomeno delle informazioni più importanti. Quindi, fondamentalmente, se facciamo l'esempio di questo segnale analogico, XDT, il segnale campionato sarà un segnale in cui, appunto, con una certa cadenza, che poi vedremo, si chiama cadenza di campionamento, io vado a prelevare, appunto, alcuni campioni rappresentativi di questo segnale, che sono i pallini che qua abbiamo riportato in blu, e questa sequenza di campioni avrà un certo valore che poi, una volta che verrà elaborato, consentirà di svolgere eventualmente delle operazioni da parte del microprocessore, operazioni, appunto, qualsivoglia, purché questa sequenza di campioni abbia, come dire, un significato e quindi che sia ben rappresentativo del segnale in ingresso. Lo strumento che effettua questa operazione è l'unità di conversione oppure anche convertitore analogico-digitale, abbiamo detto, e i modi per indicarli, così lo troverete anche spesso nei testi, piuttosto che anche nelle nostre dispense, è ADC, il blocchetto ADC che sta per Analog to Digital Converter oppure A slash D per indicare, appunto, operazione di conversione analogico-digitale, quindi troverete o questo o quello come dicitura per identificare questo blocco in generale. Ma a questo punto andiamo a vedere un po' più nel dettaglio in cosa consta la conversione analogico-digitale. Allora, la conversione analogico-digitale può essere vista, almeno da un punto di vista schematico, come costituita da due operazioni fondamentali che in maniera semplificata possono essere sequenzializzate. E quindi immaginare che la conversione AD preveda due stadi, uno di campionamento attraverso un sistema appunto campionatore e uno stadio di quantizzazione attraverso un sistema che viene chiamato quantizzatore. Questa schematizzazione è comoda da un punto di vista come dire di spiegazione e di modellazione del processo di conversione AD però molto spesso capita che il campionamento e la quantizzazione da un punto di vista poi proprio realizzativo del sistema coincidiano in un unico circuito, in un unico blocco. Quindi è solo un modo per distinguere le due operazioni e far comprendere quali sono gli aspetti che in generale vanno presi in considerazione. e accettando questa schematizzazione vediamo che partendo in generale dal segnale analogico in ingresso X di T che è un segnale diciamo che è continuo sull'asse dei tempi e sull'asse delle ampiezze quindi assume un numero un insieme i propri valori chiedo scusa i valori nel tempo e nelle ampiezze assumono un'infinità di valori su un intervallo in generale proprio per la definizione di tempo continuo di segnale continuo attraverso il campionatore che campionerà questi campioni con una certa frequenza di campionamento FC fornirà diventerà un segnale campionato e quindi una sequenza di punti X di N che diciamo che cosa diventerà? diventerà un segnale discretizzato almeno per quel che riguarda l'asse dei tempi perché appunto non ho più un'infinità di valori per la variabile tempo ma ho un numero finito fondamentalmente di punti che sono stati campionati con un certo passo di campionamento e quindi che sono stati discretizzati quindi l'insieme asse dei tempi diventa diciamo a questo punto non più un insieme continuo ma un insieme discreto nel segnale campionato dopodiché abbiamo la seconda operazione che è quella di quantizzazione svolta appunto dal quantizzatore che grazie alla definizione di un paio di parametri che poi andremo a studiare più nel dettaglio avanti che sono la tensione di fondo scala e il numero di bit con cui viene effettuata questa quantizzazione fornisce in uscita un segnale quantizzato che vedete prende il nome di x cappuccio di n per indicare che a differenza di quello in ingresso oltre ad avere come dire la discretizzazione sull'asse temporale questo segnale in uscita in realtà sarà un dato quantizzato ovvero quantizzato anche sulle ampiezze cioè anche l'asse delle ampiezze diventa un asse discreto ovvero le ampiezze del segnale in ingresso vengono suddivise in pratica il range di variazione delle ampiezze del segnale in ingresso viene suddiviso in un insieme discreto di intervalli e quindi fondamentalmente il ruolo della conversione logico-digitale capiamo che è duplice perché deve consentirci di passare da un segnale continuo nel tempo e nelle ampiezze a un segnale discreto nel tempo e nelle ampiezze posso andare avanti su questi concetti allora affrontiamo come primo concetto quello del campionamento e quindi ci focalizziamo sul primo blocco delle operazioni di conversione logico-digitale allora il primo blocco riguarda appunto il campionamento ma vediamo rapidamente cosa significa il campionamento visto che ovviamente sono concetti che avete già visto molto bene in altri corsi allora il campionamento lo si ottiene in che modo? partendo da un segnale analogico ancora xdt qual si voglia attraverso un certo numero di impulsi di campionamento distanziati di un passo che prende il nome di tempo di campionamento che ovviamente è l'inverso della frequenza di campionamento si andranno a prelevare alcuni campioni del segnale in corrispondenza appunto dei vari istanti di campionamento quindi di fatto è un prodotto in pratica del segnale in ingresso per questo treno di impulsi quello che diciamo si cerca di fare col campionamento è quindi quello di cercare di scegliere un periodo di campionamento scusatemi tale per cui i campioni che andremo ad ottenere alla fine siano ben rappresentativi del segnale analogico iniziale ma con un numero appunto finito di punti e quindi non con un numero infinito che servirebbe per rappresentare diciamo il segnale continuo quindi l'idea è quella di cercare di ridurre ovviamente il numero di punti però cercando di salvaguardare le informazioni che devono essere estratte dal segnale stesso in particolare quello che uno vorrebbe in generale è che il contenuto informativo associato al segnale nel dominio del tempo continuo si mantenga inalterato attraverso l'operazione di campionamento quindi che non ci siano alterazioni diciamo di informazioni e allo stesso tempo voglio fare in modo che è possibile estrarre dal segnale ottenuto nel dominio del tempo discreto le stesse informazioni associate al segnale nel dominio del tempo continuo quindi non solo non devono essere alterate ma voglio provare a estrarre le stesse informazioni fondamentali del segnale originario ovviamente per fare questo diciamo mi viene in soccorso un teorema che conoscete bene che è il teorema del campionamento anche il teorema di Shannon che evita appunto che ci sia se viene rispettato alterazione del contenuto informativo oppure diciamo anche aggiunta di informazioni ridondanti in particolare cosa dice questo teorema poi dopo lo formalizziamo un po' meglio adesso lo vediamo giusto in maniera un po' più qualitativa questo teorema garantisce che se il segnale di partenza ha uno spettro limitato alla frequenza F0 cioè se la massima frequenza presente nel segnale da campionare è F0 allora la sequenza campionata contiene le stesse informazioni del segnale di partenza se la frequenza Fc di campionamento è tale che sia Fc maggiore di 2F0 quindi una volta diciamo definita questa frequenza massima del segnale in effetti in ingresso del segnale analogico in ingresso se io riesco a soddisfare questa condizione nota anche come condizione di Nyquist cioè Fc maggiore di 2F0 con Fc vale la frequenza di campionamento allora riesco a evitare in generale l'alterazione del contenuto informativo una cosa interessante da capire fin da ora è che appunto questa condizione ovviamente è una condizione di disuguaglianza no in generale cioè se io vado a potrei scegliere una qualsiasi Fc che soddisfi quella condizione anche una Fc molto grande in generale però qual è il problema che se io scelgo Fc troppo grande da un lato ottengo delle informazioni ridondanti e quindi diciamo che non aggiungono di fatto informazioni in più rispetto a quelle che avrei potuto magari ottenere con una Fc minore ma dall'altro canto ma che comunque però soddisfa Fc maggiore di 2F0 però d'altro canto aumentare troppo la frequenza di campionamento può essere un problema per tutto ciò che avvalle perché significa poi prevedere delle strutture di memoria che siano in grado di contenere questo numero maggiore di dati perché se aumenta la frequenza di campionamento significa che per rappresentare un certo intervallo per esempio un periodo del segnale invece di trovarmi a rappresentarlo con per esempio non so come in questo caso circa 10 punti a periodo magari io aumento la frequenza di campionamento significa in pratica che questo stesso intervallo di osservazione del mio segnale originario lo vado a rappresentare invece che con 10 punti con 20 con 100 con 1000 è più largo quella frequenza di campionamento e più diciamo senz'altro andrò a riempire tutti questi buchi che voi vedete fra questi campioni perché di fatto sto campionando in maniera più fitta più intensa con un passo di campionamento più stretto ma questo ovviamente produrrà una mole di dati maggiore non solo da memorizzare ma anche in generale da elaborare perché poi diciamo di solito questi dati vengono memorizzati e non è che stanno lì diciamo tanto per essere memorizzati come abbiamo fatto gli esempi prima saranno poi elaborati per poter essere visualizzati piuttosto che verranno elaborati per applicarci un algoritmo di filtraggio piuttosto che per calcolare un parametro di interesse faccio un esempio un valore efficace piuttosto che un qualsiasi altro diciamo tipo di elaborazione per estrarre delle informazioni e ovviamente probabilmente avete già visto in generale anche in altri corsi come poi la complessità computazionale l'onere computazionale che è associato all'esecuzione appunto di un algoritmo molto spesso dipende dal numero di punti quindi dal numero di elementi su cui si applica quell'algoritmo e in alcuni casi non ha una crescita lineare addirittura diventa esponenziale quindi sicuramente aumentare l'AFC può portare anche a problematiche poi di riuscire a garantire non solo la memorizzazione di dati ma diciamo l'elaborazione tempestiva di dati tempestiva significa anche il fatto di fare in modo che a quel punto se io dovevo elaborare questi n dati non è detto che io ce l'abbia sempre a disposizione un processore un i7 in molti casi in molte applicazioni diciamo un po' più low cost come per esempio anche quelle dell'Internet of Things voi avete diciamo microprocessori di qualche euro che costano qualche euro e quindi hanno delle caratteristiche anche in termini di capacità elaborative oltre che di memorizzazione e quindi anche velocità non eccessive e quindi alla fine devo cercare in molti casi di cercare di contenere anche il numero di punti quindi questa disuguaglianza va presa ma va presa facendo in modo da non oltrepassare troppo in generale quello che potrebbe essere il limite 2F0 in molte applicazioni in altre applicazioni poi invece si richiede di avere un po' più di informazioni per diciamo avere per applicare delle altre tecniche diciamo che non sto qui a spiegarvi in questa sede perché magari vi potrei solo portare un po' di confusione ma che comunque consentono poi di ottenere delle prestazioni migliorative in termini di rapporto segnale rumore in generale ora detto questo se vale questo discorso che FC è maggiore di 2F0 ma facciamo giusto una rapida ripassata anche su visto che iniziamo a parlare in termini di frequenze sul dominio delle frequenze e partendo ovviamente da quello che lo sviluppo in serie di Fourier che voi avete imparato nei corsi di matematica e non solo ad utilizzare per esempio per sviluppare una qualsiasi funzione periodica diciamo nel tempo xdt e come sapete bene dalla teoria appunto di analisi ci avete che questa xdt appunto se è periodica è sviluppabile secondo la serie di Fourier attraverso questa formuletta e con la definizione dei coefficienti attraverso questi integrali questa ovviamente formulazione mi fa anche capire in generale che è un segnale periodico richiede un numero infinito di componenti per poter essere diciamo correttamente rappresentata almeno idealmente attraverso lo sviluppo in serie di Fourier coefficienti che poi scusate l'ampiezza di queste componenti dipende da alcuni coefficienti che si calcono attraverso appunto questi integrali cosa significa da un punto di vista pratico lo sviluppo in serie di Fourier significa che se io ho un segnale per esempio come lo vedete qui che tutt'altro sembra tranne che una sinusoide ma l'unica cosa che riesco a riconoscere una certa periodicità quindi che si tratta di un segnale realmente periodico allora se lo vado a sviluppare in serie di Fourier perché lo posso fare in quanto il segnale periodico in pratica ottengo che lo posso vedere come somma di appunto sinusoidi a varie frequenze e varie ampiezze che è quello che trovate appunto in questo secondo disegno ed in particolare se magari uno andasse a svilupparlo questo segnale vi dessi i dati per farlo in pratica otterreste magari che appunto può essere visto come somma di quattro componenti fondamentali alle frequenze indicate qui e di ampiezza via via diciamo decrescente così come un po' rappresentato qui sotto quindi la somma di tutte queste componenti genera poi un segnale che ha queste caratteristiche perché diventa utile da un punto di vista di analisi lo sviluppo in serie di Fourier perché in pratica ci consente di sfruttare un altro dominio di analisi di segnali molto utile in molte applicazioni pratiche è il dominio della frequenza perché nel dominio della frequenza in pratica fateci caso partendo da questo segnale diciamo iniziale che è somma magari di tre segnali ciascuno ad una certa frequenza di ampiezza diversa rispetto all'altro in pratica da una rappresentazione piuttosto anche complicata magari da andare a visualizzare nel dominio delle frequenze questa rappresentazione va a essere molto semplificata perché sull'asse delle X invece di avere il tempo c'ho appunto le frequenze e queste singole componenti sinusoidali sono associate e rappresentate attraverso delle righe spettrali collocate esattamente alle frequenze di queste componenti sinusoidali e di ampiezza ovviamente dipendente dall'ampiezza di queste componenti e quindi anche da un punto di vista visivo la visualizzazione di uno spettro cioè la rappresentazione di un segnale attraverso l'ottenimento del suo spettro di ampiezza è un modo diciamo in molti casi più comodo per analizzare questo segnale ed in particolare anche in relazione a quello che abbiamo detto prima il teorema del campionamento perché il teorema del campionamento cosa dice che affinché io dato questo segnale in ingresso possa garantire di non alterare le informazioni del segnale della sequenza campionata devo fare in modo che la frequenza di campionamento sia maggiore uguale di due volte la massima frequenza presente nel segnale e qual è la massima frequenza presente nel segnale? ovviamente nel dominio del tempo sarebbe difficile individuarla nel dominio della frequenza per esempio nel caso di questo esempio è questa componentina l'ultima componente in frequenza non nulla del segnale e quindi in questo caso specifico questa frequenza rappresenta la frequenza massima del segnale anche indicata spesso come banda del segnale e rispetto a questa andare a dimensionare la frequenza di campionamento tale per cui si verifichi il teorema di Shannon e quindi si eviti la distorsione volendolo appunto a questo punto formalizzare in modo più preciso e più forse come siete stati abituati anche a vederlo in altri corsi il teorema di Shannon dice appunto che dato un segnale a banda limitata x di t la qui trasformata di Fourier soddisfi la condizione appunto di segnale a banda limitata cioè che il modulo si annulli per f maggiore di una certa banda di una certa frequenza allora il segnale può essere completamente determinato a partire dalla sequenza campionata acquisita ad intervalli uniformi di durata t con c dove t con c è minore o uguale di 1 su 2b ovvero fc maggiore o uguale di 2b e quindi diciamo ovviamente la condizione può essere espressa sia in termini di frequenza di campionamento che in termini di periodo di campionamento e ovviamente un primo problema che dovremmo cominciare comunque a porci in generale che poi ha delle conseguenze pratiche che dobbiamo ipotizzare dobbiamo cominciare a ragionarci su e il fatto che poi un segnale a banda limitata non può avere durata limitata in generale in opere i teoremi che ci avete conoscete diciamo di passaggio tempo-frequenza frequenza-tempo quindi se a banda limitata ovvero soddisfa la condizione dinamica questo significa che dovrebbe essere un segnale di durata infinita ma diciamo in generale noi avremo a che fare sempre con segnali che proprio per forza di cose visto che dovranno essere contenuti in una memoria costituita al numero finito di campioni saranno segnali diciamo limitati nel tempo e quindi teoricamente che potrebbero avere una banda diciamo infinita ora qual è l'effetto del campionamento nel dominio della frequenza allora al solito io qua vado abbastanza veloce perché sono concetti che sicuramente avete già visto in altri corsi o che li studierete sicuramente in maniera più approfondita però da un punto di vista proprio pratico quello che possiamo immaginare è che se questo è il mio segnale nel dominio del tempo xdt con una forma qual si voglia e supponiamo che questo sia lo spettro di ampiezza del segnale quindi che sia appunto delimitato dalla banda B grande immaginiamo ovviamente di considerare anche diciamo la parte negativa di frequenza dello spettro allora che cosa succede? che nel momento in cui io campiono questo segnale xdt con una frequenza di campionamento che è maggiore di 2 volte B e quindi sto garantendo le condizioni richieste dal teorema di Shannon in pratica cosa succederà? che il segnale campionato avrà uno spettro fatto in questo modo cioè avrà ancora una volta diciamo lo spettro del segnale originario quindi centrato sullo 0 con estremi meno B e più B ma poi presenterà delle repliche quindi questa questa e poi avanti ancora a multipli della frequenza di campionamento fc che nel caso in cui fc è maggiore di 2b ovviamente se vado a vedere dove sta questo estremo e starà esattamente a fc meno B e quest'altro fc più B poiché fc maggiore di 2b queste due repliche e quindi anche queste altre due quindi le repliche adiacenti non si toccano non si non interferiscono tra loro ovviamente caso in cui fc uguale 2b ottengo invece una sovrapposizione giusto nel punto B di congiunzione e qui a 2fc meno B nel caso in cui invece fc è minore di 2b quello che ottengo è che c'è una sovrapposizione delle repliche in una certa regione e quindi diciamo inizio a alterare le informazioni fondamentalmente del segnale in ingresso perché in effetti non sto garantendo la condizione diciamo richiesta dal teorema di Shannon ovvero la condizione di Nyquist per cui questo è l'effetto ovviamente del campionamento nel domini della frequenza e questo fenomeno che porta alla distorsione causata dalla sovrapposizione di repliche adiacenti è anche noto come fenomeno dell'aliasing perché praticamente se ci troviamo in quelle condizioni che abbiamo detto prima cioè fc minore di 2b la sovrapposizione delle repliche di fatto fa nascere nelle zone di sovrapposizione delle componenti frequenziali note come componenti di alias che appunto non erano presenti nel segnale originario e quindi rappresentano a tutti gli effetti una distorsione dell'informazione e quindi che significa che se l'informazione è distorta tutto ciò che viene dopo quindi tutta l'elaborazione o la visualizzazione o quello che sarà di questa sequenza campionata porterà dei risultati che risentiranno in generale di questo aliasing e quindi a risultati in generale sbagliati perché di fatto l'aliasing è anche un artefatto sul segnale come se ci fossero delle situazioni che non sono realmente presenti sul segnale in ingresso e quindi farei tutta una serie di elaborazioni che porterebbero a risultati in generale sbagliati ecco perché ovviamente va evitato l'aliasing è giusto per farvi un esempio anche visivo immaginate di avere un segnale di ingresso che sia questa sinusoide che per esempio abbia una frequenza di 520 hertz che ovviamente nel caso della sinusoide sapete bene corrisponde anche alla sua frequenza massima perché la sinusoide se io vado a fare lo sviluppo in serie di fureti o comunque valuto lo spettro di ampiezza della sinusoide è un segnale che non ha frequenze superiori alla frequenza fondamentale quindi immaginiamo di avere questo segnale 520 hertz di frequenza 520 hertz e campioniamolo per esempio con fc 6.240 hertz siamo nelle condizioni di shannon certamente perché il doppio di questa frequenza sarebbe 1040 io sto campionando a 6.240 sto abbondantemente sopra la condizione di Nyquist richiesta e quindi tant'è che se vedete significa in pratica prendere circa una decina di punti per periodo per rappresentare questa sinusoide e quindi mi aspetto che se poi io vado ad implementare degli algoritmi che stimano non so per esempio il periodo di questo segnale piuttosto che il valore efficace piuttosto che il valore di picco e così via io tutto sommato dalla sequenza campionata queste informazioni le riesco ad ottenere perché la sequenza di campioni che prendo è abbastanza rappresentativa me ne accorgo anche visivamente di questa di questa sinusoide oltre al fatto che c'è un teorema che mi dice che sto a posto ma vedete la stessa cosa cosa succederebbe nella situazione in cui a parità di frequenza in ingresso quindi sempre il solito segnale 520 hertz scegliessi paradossalmente una frequenza di campionamento che non soddisfa la condizione di di Nyquist è un teorema di Shannon ovvero per esempio scelgo una frequenza di campionamento pari a 500 hertz però cosa significherebbe significherebbe non riuscire a garantire più almeno due punti a periodo perché poi la condizione fc uguale 2 f0 significa prendere almeno due punti a periodo ma vedete un primo campione viene preso qua il secondo verrà preso su un periodo successivo il terzo su un periodo successivo ancora e così via questi campioni sarebbero talmente distanziati che se poi andassi pure a pensare di fare un'interpolazione sinusoidale perché so che la forma d'onda magari è sinusoidale otterrei senza altro delle informazioni sbagliate perché verrebbe fuori che il periodo della sinusoide invece di essere quello originario che è magari questa distanza qui sarà questa distanza qui da qui a questo punto qui e quindi avrei sicuramente un problema nel dichiarare per esempio qualora questo segnale fosse un segnale incognito qual è la frequenza di questo segnale perché diciamo otterrei un risultato che è senz'altro sbagliato rispetto a quello diciamo originale magari sull'ampiezza non avrei grossi problemi perché in ogni caso il picco che raggiungo per un fatto casuale perché magari è scelto il passo di campionamento è tale per cui prendo comunque il picco effettivo del segnale tutto sommato non avrei problemi di stima sull'ampiezza ma sulla frequenza senza altro ok e a questo punto come si manifesta nel dominio della frequenza l'aliasing quindi nel dominio del tempo più o meno abbiamo capito che di fatto si manifesta innanzitutto su un segnale su un'uso etale col fatto che prendo meno punti a periodo dei minimi due necessari del minimo numero che è due e che poi appunto può provocare quindi anche degli errori nella stima della frequenza del periodo del segnale eccetera eventualmente anche dell'ampiezza perché se io qua avessi scelto una frequenza di campionamento che magari non andava a far capitare questo punto qui ma lo faceva capitare un po' più sotto ovviamente quando andava a interpolare interpolavo più sotto e quindi diciamo anche sull'ampiezza avrei avuto problemi in generale nel dominio della frequenza questa diciamo alterazione di informazioni in che cosa si traduce praticamente nella nascita di appunto delle armoniche dette di alias fantasma quindi che si vanno a collocare generalmente a bassa frequenza in corrispondenza di frequenze ben specifiche e che sono relazionate alla frequenza di campionamento che stiamo utilizzando e alla frequenza del segnale in ingresso o alla componente del segnale in ingresso la componente di frequenza del segnale in ingresso in quel momento stiamo campionando cioè c'è una formuletta molto banale che dice che in pratica le frequenze di alias per una data frequenza di ingresso o comunque per una data componente del segnale in ingresso nel caso in cui il segnale di ingresso possa avere più componenti frequenziali e non una sola come nel caso della sinusoide abbiamo che la frequenza di alias si troverà collocata ad un valore che è dato da questa formula valore assoluto del multiplo intero della frequenza di campionamento che stiamo utilizzando più vicino al valore di frequenza di ingresso che stiamo campionando meno la frequenza di ingresso stessa e quindi volendo fare questo esempio vedete che se io ho il segnale in ingresso che è appunto a 520 Hz e ho un'unica frequenza in ingresso e sto utilizzando una frequenza di campionamento di 500 Hz questa formula cosa mi dice valore assoluto di cosa? Multiplo intero di fc più vicino alla frequenza di ingresso ma il multiplo intero di fc più vicino alla frequenza di ingresso coincide proprio con 500 Hz perché il secondo multiplo sarebbe a 1 kHz ma 1 kHz è più distante diciamo di 500 Hz dalla frequenza di ingresso di 520 quindi il multiplo intero che mi interessa in questo caso è proprio già 500 Hz quello corrispondente diciamo così al multiplo con coefficiente moltiplicativo diciamo k uguale 1 a questo punto se faccio la differenza tra 500 Hz e 520 Hz in valore assoluto mi viene 20 Hz e quindi mi spunterà in una situazione del genere una componente a frequenza esattamente 20 Hz che non c'era nel segnale originario il segnale originario prevedeva solo questa componente qui ok ci siete ragazzi mi date un attimo un feedback audio se mi state seguendo bene si professore ok perfetto grazie scusatemi allora a questo punto quindi diciamo se si verifica aliasing quindi non sto garantendo la condizione di Nyquist abbiamo detto spunteranno queste componenti nel segnale che nel caso degli spettri a righe come il caso di segnali sinusoidali sviluppabili in serie di Fourier si traduce nel spuntare nel creare diciamo così delle componenti che non c'erano prima ma che magari potrebbero anche essere chiaramente visibili ma nel caso in cui ci abbiate segnali con spettri non a righe di fatto significa avere una sovrapposizione di altre componenti di altre densità di potenza in una zona dove non c'erano e quindi fondamentalmente ancora una volta quando andate a fare delle misure o hai elaborato in qualsiasi modo per qualsiasi applicazione quel segnale ottenete dei risultati sbagliati e allora come prevenire diciamo il problema dell'aliasing in generale cercando diciamo di limitare in banda il segnale in ingresso attraverso un filtraggio passo a basso con un componente che prende a quel punto proprio il nome di filtro anti-aliasing e che diciamo faccia in questo modo cioè che se voi avete deciso di campionare ad FC pari a una certa banda e quindi dovete garantire che il scusate MFC che soddisfi una certa condizione in relazione alla banda del segnale se volete garantirvi che tutta questa roba qui che poi poteva rientrare in banda da quest'altro lato per effetto della seconda replica centrata a due FC in pratica significa dover limitare a monte il segnale quindi prima che venga campionato quindi ecco perché si utilizza un filtro anti-aliasing prima in modo tale che se idealmente questo filtro vedete ha una risposta di questo tipo quindi volendo andare a moltiplicare per ottenere la Y di F qui otteniamo che lo spettro del segnale filtrato vedete ha questa forma in pratica diciamo faccio sì che se io poi scelgo una FC che sia maggiore uguale di 2B dove però questa volta B è la frequenza di taglio del filtro praticamente non ottengo la sovrapposizione delle repliche ovviamente certo ho limitato un po' in banda il segnale quindi perdo queste informazioni però perlomeno non vengono alterate e se queste informazioni non avevano comunque come dire degli effetti significativi sulle caratteristiche del segnale anche sull'accuratezza di misura eccetera a me questo non diventa un problema ok c'è solo un piccolo problema pratico legato al fatto che come magari già avete visto in altri corsi un filtro reale non ha la capacità di abbattere il guadagno e quindi di attenuare il segnale in ingresso oltre la sua frequenza di taglio in maniera con un roll off infinito quindi con una pendenza diciamo infinita ma avrà una certa attenuazione che poi dipende in generale dall'ordine del filtro e che diciamo poi si esprime come avrete visto forse anche quando avete studiato i diagrammi di Bode con diciamo un certo numero di dB di attenuazione per decade ovviamente questo fa sì che diciamo se io campiono un segnale con frequenza di campionamento pari a 2 BP tutta questa parte qua che non è proprio diciamo zero perché il guadagno non è zero ma ripeto per motivi di fisica realizzabilità mi consente ancora un po' di non attenuare completamente il segnale in ingresso porterebbe comunque a generare un po' di aliasing in questa zona e quindi diciamo per evitare questo problema generalmente si dovrebbe un po' sovracampionare il segnale in modo tale da utilizzare un fattore di oversampling di sovracampionamento tale da diciamo consentire comunque di ritenere trascurabile l'aliasing per effetto anche del fatto che il filtro anti-aliasing non ha una decadenza diciamo ideale quindi ci mette un po' di tempo in termini di frequenza ad attenuare il segnale detto questo io direi che con oggi possiamo chiudere quindi abbiamo parlato solo della prima parte che è il campionamento domani continueremo con la parte relativa alla quantizzazione e poi diciamo col termine della lezione dovremo avere anche il tempo di fare qualche esercizietto utile ai fini pratici ok allora se non avete domande io chiuderei qui la lezione e ci vediamo domani sempre alle 10 ok allora arrivederci ragazzi buona prosecuzione arrivederci ciao